Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannatasio, traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana, sulla Grossetofano chiuso lo svincolo per lavori tra Monte San Savino e Montagnano in direzione San Zeno, su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Firenze in Puneta e San Casciano Nord in direzione Siena, sulla statale 1 Aurelia senso unico alternato per lavori tra l'incrocio di Scarlino e quello di Stagno in entrambe le direzioni, sulla statale 223 di Paganico divieto di transito per i mezzi superiori a 10 metri, tra il bivio per Bagniaia e San Salvatore Appilli, i traghetti l'aliscafo Toremar Piombino Cavo delle 14.55 è stato cancellato. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!